Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi sono tornata con una nuova nell'arte ho registrato questo video a scuola e quindi potete capire che c'è un po' di movimento allora ho già applicato la base poi ho stesso sull'indice, sul medio e sul migno lo smalto giallo mentre sull'anulare e sul pollice lo smalto bianco ora con lo smalto verde Giorgia mi andrà a realizzare il ramo della pianta della mimosa perché questa nell'arte appunto è per la festa della donna ecco scusate se non si vede molto bene ma comunque poi vedrete che sta realizzando con il pennellino il ramo verde ora prende il giallo e fa appunto dei poids che fanno sembrare la mimosa quindi pr clashino perché purtroppo ha fatto una nuova ecco, poi sempre con il pennellino sul lato sul lato del dito medio potete scegliere voi appunto quale va a disegnare il cuore un cuore, un cuore bianco appunto la donna in un cuore ha voluto fare questa associazione stessa cosa anche sul pollice ok Grazie a tutti. E quindi andiamo a fare anche qui i puas. Scusate se non è messa bene a fuoco, ma purtroppo la registrazione non l'ho fatta io, ma l'ho fatta chiara. Prossima volta io lo dico di tenere il tabletto un po' più fermo perché è molto molto movimentata. Ora, come ultima cosa, vado a passare il top coat su tutte le dita. E niente ragazzi, questo è il risultato finale della nail art. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo una cosa molto molto importante. Nel video erano presenti Silvia, Giorgio e Chiara. Un bacione a tutti e tre. Ciao ciao!